E con noi Parti Sicuro Estate 2018! Prima di partire per le vacanze, nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 28 settembre, effettua un controllo gratuito della tua auto recandoti in una delle auto-officine che trovi sul sito www.confartigianato.ta.it e un'iniziativa di Confartigianato Imprese Taranto con il patrocinio della sezione Polizia Stradale e con la collaborazione di AdiConsum, FederConsumatori e Adoc Non trascurare la sicurezza della tua auto Ne va della tua vita Della vita dei tuoi cari E di tutti noi Il check-up gratuito riguarda i seguenti interventi Controllo del livello dell'olio e dell'acqua Controllo tergi cristalli Controllo freni Controllo luci Controllo pneumatici Non esitare ad andare in officina Garantiamo la qualità e la professionalità degli operatori Parti sereno La sicurezza è importante Fai come me Fai controllare la tua auto E una campagna di sensibilizzazione di Confartigianato Imprese Taranto E una campagna di sensibilizzazione di Confartigianato Imprese Taranto